Cari amici e cari amiche della Via dei Simboli, finalmente sono disponibili le nuove copie anche di Tradizioni Magiche in Maremma. Questo libro che è stato per me molto particolare perché ho svolto ricerca sul campo, perché venissero raccolte tutte queste cose inedite e che era esaurito da luglio del 2019. Mentre stavo scrivendo La Guida alla Maremma è insolita e misteriosa, tante volte l'ho raccontato, si era accumulato un materiale, non posso dire insolito perché me lo aspettavo questo, ma comunque un materiale interessante che era riferito a quel mondo magico che permea la nostra Toscana, ma un po' tutta la penisola. Tradizioni Magiche in Maremma quindi non parla solo della Maremma, anzi mette l'accento su alcuni aspetti che poi sono correlati a tutto il nostro territorio italiano e fonda tutto sulle radici arcaiche che parlano di simboli, di credenze e di personaggi che hanno rivestito un ruolo molto particolare. Qui si racconta di luoghi e tradizioni di magia dal Monte Miata alla Costa Tirrenica, ma anche di pratiche di guaritori, divinazioni che hanno a che vedere con quel mondo etrusco chiamato, etrusca disciplina, quella pratica antica che è andata a perdersi, ma che pare essersi riversata in determinati ambiti, in esigui spazi delle nostre campagne che ancora viene praticata dai guaritori. Dico ancora viene praticata dai guaritori perché ancora esistono persone che praticano queste forme di guarigione e poi vi sono testimonianze di eventi spiegabili, racconti di eretici, cavalieri e maghi in Maremma e negli ultimi tempi ciò che è successo ha portato a comprendere come il modus operandi del potere sia sempre il solito quello di imporre dei marchi di infamia e nel libro proprio racconto di eresie e marchi di infamia. Ecco qui la pagina dedicata a questo. Ho realizzato anche dei video in questi ultimi tre anni proprio nel mio canale YouTube La Via dei Simboli, proprio per raccontare che studiando il passato, raccogliendo la memoria, siamo consapevoli che l'operazione di discriminazione, quella vera e propria, di marchiare coloro che osano uscire dal gregge, è una pratica che è sempre stata fatta, forse dall'origine dell'umanità e per questo che ci tenevo che fosse nuovamente disponibile questo libro appunto che ormai sono quattro anni che era esaurito, le coppie non erano più disponibili, racconto delle correlazioni anche con altri popoli, dei baschi, degli eretici di Montieri e non solo, vi sono eresie nascoste nei dipinti che si trovano qui in Maremma e sul Monte Amiata e che sono state appunto volutamente occultate perché potessero arrivare fino a noi e quindi era giusto che prendessero voce tramite ricerche, anche tramite questo scritto e quindi le copie dei tradizioni magiche in Maremma saranno disponibili come anche quelle della Via della Rosa in occasione della presentazione che avverrà il 30 settembre presso la Sala Consigliale del Comune Vecchio di Bibbona alle 21.15. Qui sullo sfondo vi è la slide della presentazione e sto apportando gli ultimi ritocchi perché sia un'occasione per condividere insieme tante impressioni. Ci tengo a sottolineare che nulla del passato non ci coinvolge, anzi, anzi, la maggior parte degli eventi che sono avvenuti nel passato ci coinvolgono oggi e ci coinvolgeranno anche e soprattutto nel futuro. Per cui studiare il passato è importante perché ci rende pronti al futuro. È veramente fondamentale. E per concludere, nelle tradizioni magiche in Maremma racconto anche di impronte magiche spiegando cosa c'ha Bibbona di particolare. È un po' propedeutico a ciò che racconto nel capitolo del Segreto di Bibbona inserito nella Via della Rosa e do uno spazio notevole a quelli che sono i culti alla natura e alle divinità ninfe, sibille, divinità femmine che ancora si conservano in certi luoghi dell'Etruria, in particolare del Monte Amiata. C'è qualcosa anche sui giurisdavidici, David Lazzaretti ed è un ricco saggio per approfondire meglio quella che è la magia del territorio della Maremma. Quindi sono veramente felice di poter rendere disponibili queste copie di tradizioni magiche Maremma a partire da adesso e in anteprima con la quarta ristampa il 30 settembre, fra pochissimi giorni, a Bibbona. Vi aspetto a tutti. Un caro saluto.